È come Genova, Genova è una città tagliata in due, la Liguria è tagliata in due, l'Abruzzo sarebbe tagliato in due e stando al centro della penisola questo viadotto taglia in due l'Italia. Vertice in regione questa mattina a Pescara per discutere dell'emergenza traffico sulla SS16, dopo che la procura di Avellino ha stabilito che i TIR non possono transitare sul tratto dell'A14 tra Atri, Pineto e Pescara Nord. Presente il governo regionale ma anche le opposizioni, i sindaci dei comuni interessati, ANAS, Autostrade, i prefetti di Teramo e Pescara, al tavolo anche diversi parlamentari, l'intento della politica abruzzese è quello di mostrarsi unita e compatta nel fronteggiare l'emergenza. La speranza di tutti è che questo percorso si concluda positivamente nei primissimi giorni della settimana con un accoglimento della istanza di dissequestro che consentirà ai mezzi pesanti di tornare sull'autostrada e quindi di liberare la statare 16. Non dovesse accadere, io sono pronto a chiedere uno stato di emergenza perché per noi una chiusura a tempo indeterminato, se non definitiva, del viadotto del Cerrano è come se fosse crollato un ponte Morandi. È necessario insistere con tutti gli elementi tecnici, valutativi di ogni genere, ivi compreso il livello di emergenza che si è determinato, insistere perché la misura venga revocata, modificata, attenuata, quella interdittiva sull'autostrada. Bisogna depositare una nuova istanza, se l'autorità giudiziaria di Avellino non deciderà in questa direzione allora occorre che scatti un piano di emergenza straordinario. L'emergenza non riguarda solo l'Abruzzo ma l'intero territorio nazionale. L'A14 infatti è una tratta fondamentale per il trasporto su gomma da nord a sud della penisola e viceversa. Sono infatti moltissime le imprese che stanno subendo il problema irrisolto da ormai oltre un mese. Al centro delle polemiche autostrade per l'Italia è la mancata manutenzione. Se il governo dovesse decidersi potrebbe revocare la concessione e nazionalizzare le infrastrutture. Forse è stato preso sotto gamba dal ministero, dal MIT, questa situazione. Autostrade, anche autostrade l'ha preso un po' sotto gamba. Quindi adesso con tutta la pressione che stiamo facendo anche a livello governativo, anche con la richiesta di revoca di autostrade, se vanno avanti con questa gestione, io spero che si attivino per fare quegli adeguamenti che ormai sono da troppi anni un po' lasciati così, insomma, un po' all'acqua di rose. Accanto all'emergenza c'è da rimuovere la ragione dell'emergenza, cioè l'insicurezza di quel sistema di ancoraggio dei guardrail rispetto alla soletta di cemento e di asfalto del sedime autostradale. Bisogna produrre un fatto nuovo da parte del soggetto autostradale, che deve in sede tecnica, in sede istituzionale, concordare qual è il fatto nuovo che rassicura l'autorità giudiziaria per determinare una riduzione della inibizione. Mi è sembrato strano fino ad oggi che il soggetto gestore dell'autostrada abbia fatto istanza senza andare a produrre un minimo di dialogo istituzionale che rendesse certo l'accoglimento.